ok allora benvenuti a questo incontro di dicembre del Pug Roma incontro che noi tipicamente facciamo l'ultimo martedì del mese ma a dicembre storicamente anticipiamo per venire incontro insomma a chi deve festeggiare le festività natalizie dunque noi siamo appunto il Pug Roma siamo una costola del Grusp siamo nati dieci anni fa e siamo un gruppo di sviluppatori che si incontrano appunto una volta al mese solitamente fino a febbraio siamo riusciti a fare degli incontri dal vivo adesso ci siamo riattrezzati recentemente per fare incontri invece online speriamo di poter tornare presto a vederci di persona in questi incontri che facciamo parliamo quindi di programmazione di pedologie di design pattern di linguaggi spesso parliamo di PHP ma non ci poniamo limiti in questo senso quindi siamo sempre molto aperti ad altri linguaggi perché pensiamo appunto che sia più importante alla fine il metodo del linguaggio stesso in questo mese abbiamo un talk di Antonello che ci parla credo da Rotterdam no in realtà sono a Roma per le vacanze per il periodo però ritornerò a breve su ok quindi è un espatriato a volte ritornato ma comunque vabbè con questa modalità potevi stare anche ovunque in cornovaglio oppure nella terra del fuoco e ci parlerà quindi di test quindi io direi che adesso mi tolgo anch'io il video mi muto anch'io e lascio la parola ad Antonello grazie grazie ok grazie max allora come posso fidarmi della della mia suite di test proverò raccontarvi una storia diciamo così un percorso e che parte più o meno con una cosa già vista insomma avete iniziato immaginatevi ma penso insomma l'abbiate anche sperimentato iniziare in una nuova azienda di iniziare su un nuovo progetto che all'inizio vi sembra abbastanza figo insomma ben ben fatto fa cose interessanti il team è interessante tutto e quindi siete abbastanza eccitati da tutto questo però man mano che mettete poi le mani all'interno di questo della della cobase e soprattutto anche magari dei test capite che invece insomma è la situazione non era esattamente quella che insomma che avevate visto all'inizio e quindi vi chiedete ok tutti questi test che sono verdi sì ma posso fidarmi di questi test non li conosco non non li ho mai visti non lo so se se posso se sono dei mostri o se sono più una odrie born come avete visto la slide precedente insomma questo è un po il prologo io sono antonello lippolito sono appunto come dice max sono espatriato a rotterdam faccio software engineer e sto ho lavorato con un'azienda che si chiama bonk adesso sto concludendo questo progetto e ne inizierò un altro un'altra azienda olandese si chiama molly e quindi niente però diciamo questa storia non volevo fosse fosse mia non volevo non volevo essere il protagonista di questa storia perché è una storia molto generica quindi ho dovuto andarmi a trovare un altro protagonista e siccome è una questione un po di investigare su sull'affidabilità di una di una suite di test sui tool su sulle metriche che posso utilizzare allora insomma ho tirato fuori questo personaggio si chiama share code holmes è orribile il nome lo so però insomma mi ha fatto ridere quando l'ho pensato quindi ho detto vabbè ma sì dai che ci frega quindi il nostro share code inizia la sua investigazione inizia la sua studio delle metriche per capire se questa suite di test di questo nuovo progetto a cui ho iniziato a lavorare è affidabile quindi la prima che incontra ovviamente è la test coverage intanto andiamo a vedere che cos'è una definizione formale più o meno della test coverage questa è presa da wikipedia ci dice che sostanzialmente è la misura della quantità di codice percentuale di codice che il che viene eseguito di codice di produzione che viene eseguito quando vengono fatti girare i test quindi ad esempio questo è un super semplice esempio insomma abbiamo il codice di nostro codice di produzione che è questa classe che si chiama reattore nucleare ed è come dire la modella un reattore nucleare appunto diciamo che facciamo finta che abbia solo un metodo che si chiama is dangerous quindi ci dice se il reattore nucleare in uno stato di pericolosità o meno data una temperatura quindi questo sostanzialmente ci dice che è pericoloso quando la temperatura è maggiore o uguale di mille gradi altrimenti non lo è sotto i mille gradi e non è non è pericoloso quindi molto semplice e abbiamo un test che altrettanto semplice ci sono due asserzioni una dice che il a 500 gradi non non è non è pericoloso e una ci dice che a 2000 gradi è pericoloso perfetto insomma abbiamo sostanzialmente 100 per cento di coverage il test gira è verde e succede però l'imponderabile cioè un non lo so uno sviluppatore junior oppure uno sviluppatore senior che è ubriaco che non ha capito bene un requisito insomma non ha non ha fatto i compiti a casa insomma qualsiasi qualsiasi fattore va a modificare questa il codice di produzione quindi con con questa vediamo se le animazioni funzionano sì con questa modifica cioè ci porta quella condizione dall'essere maggiore uguale all'essere maggiore quindi cambiamo sostanzialmente il comportamento del nostro codice ma la nostra la nostra suite di test rimane la stessa perché gira perché verde la test cover è già al cento per cento quindi noi siamo abbastanza insomma felici che questo succeda facciamo usciamo il nostro codice la nostra ciai ci porta il nostro codice in produzione tutto verde poi ad un certo punto nel cuore della notte o nel momento in cui meno ce l'aspettiamo questa temperatura sale al a mille gradi e che succede il reattore nucleare esplode insomma questo ovviamente era un esempio molto banale in realtà però per dirvi che i bug si nascondono anche dietro a un hot cold coverage del cento per cento e questo lo spiega molto meglio questo tweet di campback sempre sia lodato e appunto è come testare ogni o meglio far sì che i test facciano girare il cento per cento delle righe di codice del codice di produzione è come leggere ogni parola in un giornale e poi insomma se alcune sono più importante di altri ma ci perdiamo magari il significato di tutto il giornale dell'articolo pur leggendo ogni singola parola quindi share code continua nella sua nella sua investigazione perché ovviamente non è soddisfatto ha capito che la code coverage non è ci dà una misura però non è una misura realmente affidabile una misura che ci può far stare tranquilli la notte visto che poi i reattori nucleari esplodono e allora si imbatte insomma cercando su google andando alle conferenze frequentando il pug si imbatte in un po di altre metriche alcune sono molto insomma ce li aveva già sotto mano fondamentalmente e si chiamano la complessità ciclomatica e il crap index ora crap è una parola insomma che in inglese non vorrei tradurla però insomma una parola abbastanza volgare però è una è una è un acronimo che dopo vi spiegherò dicevo che ce l'aveva già sotto mano il nostro share code perché utilizzava già php unit che è questo tool credo insomma è più famoso più utilizzato tool per i test automatici in php e ci dà già queste metriche e ce le visualizza anche in modo interessante quella quella che vedete sopra è ci dà una come dire un'idea di o meglio si visualizza in un grafico la complessità ciclomatica in relazione alla code coverage e quindi ci fa capire quali classi hanno una complessità ciclomatica maggiore o minore rispetto alla code coverage quindi insomma più sono coperti meglio è e poi sotto vedete la lista con con il codice l'indice crap delle singole classi quindi ci mostra quali sono le classi con l'indice crap più alto e quali sono quelli quelle quindi più delicate andiamo a vedere cosa sono poi queste due metriche la complessità ciclomatica è la misura di quanti percorsi linearmente indipendenti il nostro codice fa sostanzialmente quindi all'aumentare ad esempio di cicli for o di condizionali quindi if else nel nostro codice questa complessità ciclomatica aumenta e se li mettete poi uno dentro all'altro immaginate quanto quanto vada ad aumentare ed è potete immaginare insomma che complessità ciclomatica alta e un una code coverage bassa ci fa capire che c'è un pericolo da quelle parti perché complessità ciclomatica alta vuol dire rischio di bug code coverage bassa vuol dire che non ho abbastanza test da coprirmi quei bug molto probabilmente il crap index invece che vuol dire change risk analysis and predictions ma chiaramente è forzato come cronimo direi e sembra insomma questa questa formula strana ma in realtà è molto semplice mette il rapporto appunto la complessità ciclomatica e la coverage ancora e lo fa in un modo che se prendiamo la code coverage e la facciamo tendere a al cento per cento allora questa formula si riduce sostanzialmente ad essere il l'indice crap si riduce ad essere linearmente proporzionale alla complessità quindi semplice più aumenta la complessità più aumenta questo indice più aumenta diciamo la complessità della classe se la code coverage invece tende a zero vediamo che questa formula ci dice che il l'indice crap poi va a dipendere dal quadrato della complessità quindi più aumenta la complessità molto più aumenta l'indice crap quindi per questo dicevo molto semplice è tutto in base insomma dovete vedere guardando la call coverage in questo caso e questo questa questa metrica è stata introdotta da alberto savoglia quindi quella quella insomma il titolo è un link quindi potete anche andare a vedere il l'articolo che è molto interessante quindi ripensando al grafico che abbiamo visto prima di php unit possiamo vedere che il le classi buone e la parte di codice e unità di codice buone sono quelle che vanno a finire in quel quadrante lì diciamo in quella in quell'angolo lì dove la code coverage è medio alta e la complessità è medio bassa quindi diciamo che se abbiamo tutte le classi lì dentro più o meno stiamo controllando tramite i nostri test stiamo controllando il nostro codice è abbastanza i test sono abbastanza affidabili questa è l'idea però il nostro cerco ha detto è stardo insomma non si ferma lì e ovviamente anche ripensando a quello che diceva Kent Beck non tutte non tutte le parole sono importanti allo stesso modo in un articolo di giornale non tutte le unità di codice o le classi sono importanti all'interno del nostro della nostra code base e quindi sempre insomma googlando andando alle conferenze e così via trova questa questa metrica che si chiama charn e anche qui ho linkato l'articolo originale di michael feathers e il charn sostanzialmente è una semplice metrica che ci dice quante volte il un dato file o unità di codice è stato modificato nel tempo una metrica molto semplice sono i commit i commit che vengono fatti su un file su una classe nel caso di php ad esempio e questa questa metrica interessante perché michael feathers dice che la maggior parte dei dei progetti e del charn dei dei progetti ha più o meno questa questa forma qua da questo grafico che vuol dire che molti che una piccola parte di file è stata è modificata tante o tantissime volte l'85 90 per cento dei file sono modificati quasi mai questo vuol dire che quei file che finiscono in quella in quella piccola parte e che sono modificati molto spesso sono file che magari contengono logiche di business o cose comunque delicate che cambiano spesso e che quindi devono essere testate in maniera in maniera insomma molto più importante e precisa rispetto magari al restante 90 per cento di cose che non cambiano mai che sono semplici quindi sempre per parlare di grafici mi ero innamorato di questo tool che si chiama escali draw quindi ho iniziato a disegnare tutti questi grafici con questo tool ma va bene e non c'è un tool come php unit ad esempio faceva il grafico precedente con complessità e code coverage non c'è un tool che fa questo cioè complessità e charn però se ce l'avessimo o comunque idealmente no possiamo immaginarci dove sono le nostre classi e la parte buona è quella sotto cioè c'è una linea sotto la quale quindi con una diciamo complessità medio o bassa e un charn anche alto diciamo che in quella se le nostre classi finiscono in quella parte più o meno possiamo essere soddisfatti però ovviamente se il charn è molto alto è meglio che la complessità sia bassa in quel file in quella unità di codice chiamiamolo così c'è un tool però che ci fa che ci mostra quali sono qual è il charn delle nostre delle nostre classi io questo per esempio l'ho fatto girare sul pacchetto laravel laravel se non vado errato quindi come vedete ci sono un paio di file che sono stati modificati molte volte uno è il kernel l'altro è il root service provider quindi insomma con quei valori diciamo lì dobbiamo andare a testare molto e molto bene perché cambiano spesso e sono molto pericolosi e se non li testiamo bene sono fragili file e poi come vedete c'è anche la complessità che è sempre molto bassa per fortuna e poi c'è lo score che è uno score diciamo è la distanza da quella linea ideale che abbiamo mostrato al grafico precedente quindi è uno score calcolato in maniera arbitraria insomma dall'autore di questo tool che si chiama charn.php interessante ci avviciniamo insomma a dare più significato alle nostre insomma alle nostre metriche rispetto all'inizio rispetto alla semplice code coverage però ci basiamo comunque sempre molto sulla code coverage su quanto copriamo i nostri file col charn alto con la complessità alta eccetera e se ci affidiamo solo alla code coverage ci perdiamo un po la qualità del test e quindi a quel punto insomma conferenze google eccetera ore e ore passate a studiare non è vero ci si arriva anche prima e scopre questa questa tecnica chiamiamola così questa questa tecnica sia mutation testing qualcuno poi potrebbe obiettare al fatto che questo non è un mutante ma è uno zombie ma comunque non ha trovato uno zombie decente scusate non ha trovato un mutante decente quindi ho usato questo zombie insomma per così per illustrare il mutation testing che cosa è questa tecnica è sostanzialmente una una tecnica che risponde a questa domanda cioè se fai una modifica che cambia al tuo codice di produzione che cambia in cambio quindi il significato o il comportamento ci sarà un test che fallirà e che quindi ti dirà e hai cambiato la logica del tuo codice e del tuo software se c'è buono ovviamente se non c'è cattivo e la tecnica in realtà è molto semplice si crea un mutante poi andremo a vedere nello specifico che cos'è un mutante ma è sostanzialmente una un cambiamento al vostro codice al vostro codice di produzione quindi va a scandire il vostro codice di produzione e a cambiarvi il vostro codice di produzione in maniera che cambia il suo comportamento quindi se un test fallisce come abbiamo detto prima è buono e significa che abbiamo ucciso quel mutante se non c'è nessun test che fallisce vuol dire quel mutante scappa il nostro esercito di test non è riuscito ad ucciderlo e quindi cattivo che cos'è un mutante come vi dicevo è quello che abbiamo visto prima quindi vi ricorderete insomma questa famosa classe del del reattore nucleare posso metodo metodo is dangerous il mutante è quello che è successo per errore quindi è questo cambiare ad esempio questa linea in in questo cioè in da un maggiore uguale ad un maggiore questo è uno dei classici mutanti che si usano nel mutation testing e ce ne sono molti altri di simile ovviamente ok però chi esiste un tool la domanda è esiste un tool che fa questo per me perché non posso mettermi a modificare manualmente il mio codice per vedere se c'è qualche test che fallisce no e la risposta ovviamente come molto spesso accade nell'ecosistema php è sì esiste un tool che si chiama infection è un nome abbastanza infelice in questo questo anno direi però in realtà è un tool che esiste già qualche anno quindi non gliele vogliate ed è un mutation testing framework questo è specifico il php e credo che in questo momento sia il tool principale ce ne sono stati altri in passato ma non sono più attivi e comunque in credo qualsiasi linguaggio abbastanza maturo troverete un tool per il mutation testing abbastanza una tecnica abbastanza diffusa che insomma esiste da già un po di anni quindi però noi parleremo ovviamente di questo tool e di php dell'ecosistema php è un tool che funziona con i principali strumenti di test in php quindi da php unit che abbiamo già menzionato da php spec con section manca ad esempio biart però insomma già con questi tre tool possiamo coprire parecchi progetti o almeno quantissimi quasi tutti i progetti che abbia visto nella mia carriera quindi insomma già è soddisfacente adesso vi starete chiedendo sarete curiosi quindi vorrete un po di live coding ma non lo farò perché è sempre rischioso e soprattutto perché il questo tool in realtà è molto semplice da utilizzare c'è una guida molto esauriente quindi insomma andarlo a installare e provarlo era veramente ridondante quindi vi rimando alla guida ma non per cattiveria ma perché voglio parlare di più di concetti in questo talk che di che di specifico utilizzo dello strumento però vi posso far vedere insomma degli screenshot che sono sempre funzionano in genere questo è ad esempio è qui praticamente l'ho semplicemente installato tramite composer e l'ho lanciato senza nessuna particolare configurazione in realtà e l'ho lanciato sul codice che vi mostravo prima del reattore nucleare quindi una classe una con un metodo che fa una sola cosa if else e infection è riuscita a generare cinque mutanti come vedete dal dall'output e il mio test che avevo quello semplice con coverage al cento per cento ne ho uccisi quattro quindi tutto sommato neanche male ma ce n'è uno che è che è sfuggito e come vedete insomma dalla grafica poi ti mostra le statistiche ben precise insomma e oltre a mostrare statistiche sui mutanti uccisi e quelli sopravvissuti ha un log produce un log che può essere standard output può essere anche su file e mostra quali sono i mutanti come vedete il mutante che ha scappato è esattamente quello che vi ho fatto vedere nell'esempio quindi lui l'ha generato ha lanciato la suite di test ha visto che nessun test falliva per quello specifico mutante e me l'ha segnalato quindi insomma abbiamo fatto un passo avanti rispetto al codice iniziale questo è il test originale quindi come vi dicevo cento per cento di code coverage testo per per cinquecento gradi e vedo che deve essere falso testo per mille per duemila gradi vedo che mi deve ritornare vero cosa manca il punto di confine cioè mille che è questo quindi vado a testare che a mille a mille gradi il metodo is dangerous deve ritornarmi vero cioè deve essere pericoloso in questo modo ho ucciso anche l'ultimo mutante quindi il processo è questo vedo quali sono i mutanti che sono sfuggiti e vado a testarli semplicemente vado a dire al mio esercito di test come uccidere anche quell'ultimo mutante che era rimasto anche qui ho messo il link di un piccolo repository su github pubblico quindi potete clonarlo e ci sono già installati tutti i tool tra cui infection e con questo esempio e altri piccoli esempi di test che ci spec insomma in più per clonate docker divertite insomma a far girare test a capire come funziona infection eccetera ovviamente non ci sono i mutanti che si possono produrre con il codice con il codice php e sono una miriade non c'è solo il maggiore uguale e quelle e quelle sciccherie lì ma ci sono parecchi mutanti questa è una lista di mutanti che c'è sul sul sito di infection con un nome e un esempio di quello che fanno quindi sì ce ne sono tantissimi con operatori logici ma come vedete insomma ce ne sono tanti con le operazioni aritmetiche array insomma una marea veramente scorrere questa lista è veramente una storia lunga ci sono anche i nomi quindi ogni singolo mutante che lui può produrre a un nome questo perché può essere configurato in modo da escludere un certo tipo di mutanti a cui magari non siete interessati o invece produrre solo certi mutanti a cui invece magari siete interessati per il vostro caso specifico il pro e contro di questo tool è facile come dicevo da installare utilizzare può veramente salvarvi da bug critici che a cui non avete pensato quando avete scritto i test può migliorare le vostre skill di test dopo che l'utilizzate ovvero un po' cominciate a capire quali sono le cose che nel frattempo che costantemente vi dimenticate di testare che magari invece sono importanti e quindi dopo un po' diventa un'abitudine andare a testare quelle cose come ad esempio il boundaries insomma i limiti come ad esempio testare quel mille è lento è sostanziosamente più lento di per esempio php unit perché ovviamente lui deve generare mutanti su tutto il vostro codice tutti quei mutanti magari se lo lanciate senza nessuna configurazione deve generare tutti i mutanti che a disposizione su tutto il vostro codice di produzione e per ognuno far girare i test e capire se qualcosa fallisce quindi insomma fa un lavoro complesso e di conseguenza è più lento non può e questo è stato veramente un dolore per il mio piccolo cuoricino di sviluppatore php non può come dire unire i risultati di più di più di tool differenti quindi ad esempio ho lavorato e lavoro tuttora per un progetto che ha php spec per i test unitari php unit per test di integrazione con insomma delle librerie esterne di hat per per i test diciamo end to end insomma utilizza tutti i tool per qualche motivo e non posso far girare infection o comunque ottenere risultati decenti da infection perché non può mergiare tool diversi quindi se un mutante ad esempio può non far fallire i test di una di una suite ma può far fallire test di un altro di un'altra suite di tool però insomma infection ancora non può mergiare due risultati e quindi ancora non può darmi risultati eventi su quello specifico progetto alcuni mutanti sono per forza di cosa forza di cose non pericolosi e infatti lo dice anche nel nell'output ma ovviamente lui non sa riconoscere quali sono quelli non pericolosi e comunque te li mostrerà come mutanti che sono sfuggiti sono scappati e quindi lì sta a voi capire ok non mi interessa testare questo mutante perché non è pericoloso anche qui testare per arrivare al cento per cento di mutation score cioè testare il cento per cento di mutanti non ha molto senso quindi anche qui è purtroppo o per fortuna sta al buon senso del programmatore dico per fortuna se no non avremo più un lavoro a breve probabilmente quindi come utilizzarlo quella che la mia esperienza è stato utilizzarlo su un piccolo su una piccola parte del progetto ad esempio sto sviluppando una nuova funzionalità lancio i test che testano che mi testano quella funzionalità e poi lancio infection per capire se mentre la sto sviluppando ho scritto tutti i test necessari per quella funzionalità e in quel caso è anche relativamente veloce il flusso non è ovviamente non essendo su tutto il tutto tutta la code base diventa molto più veloce questo lo faccio quasi sempre sui almeno sui miei progetti personali e settare un minimo mutation score indicator che è sostanzialmente la percentuale di mutanti che sono stati uccisi nella pipeline quindi quando push il codice o provo a pushare il codice per andare in produzione o la mia pipeline che a un certo punto fa girare infection e mi dice se sono sotto ad esempio l'ottanta per cento che è già insomma su progetti complessi è un risultato decente di mutation score se lo sono mi dice ok se fallisce in quel caso mi sta dicendo le nuove modifiche che ha introdotto non hanno dei test insomma qualitativamente decenti o almeno in linea con il resto del progetto quindi scrivi qualche test in più insomma testa qualcos'altro oppure semplicemente quello da cui abbiamo iniziato cioè lo potete far girare su un progetto che non conoscete che utilizzi un solo tool per tutti i suoi test e potete capire dal mutation score potete avere un'idea molto migliore della test coverage per esempio su quanto siano affidabili questi test va bene insomma ormai il share code lo conoscete testardo dice ok ho questo tool nuovo perfetto quindi dal lato dei tool per capire come qualità hanno i miei test sono abbastanza contento però al di là di insomma imparare dai mutanti che non testo che che spesso non mi sfuggono eccetera come come posso cambiare l'approccio per migliorare i miei test e quindi si imbatte in un'altra tecnica anche questa è relativamente cioè insomma esiste da sempre sostanzialmente quindi sicuramente ci sono tool e letteratura per tutti i linguaggi di produzione per tutti i linguaggi di programmazione e si chiama property testing l'idea dietro property testing è invece di cercare di scrivere il come dire le proprietà di una unità di codice una classe che noi stiamo testando invece di testarne ad esempio l'implementazione e lasciare che sia un framework un tool esterno che generi le asserzioni basandosi su queste proprietà per verificare il comportamento della mia classe qui c'è un altro articolo interessante di insomma parla anche di questo di come migliorare i propri test usando il property testing e proviamo ad usarlo sul nostro reattore nucleare quindi abbiamo il nostro test che ha il 100% di code coverage ha il 100% di mutation testing score o mutation score index per essere precisi come avrei potuto scriverlo ok questo funziona no diciamo ma come avrei potuto scriverlo fin dall'inizio con un diverso approccio per ottenere quello che ho ottenuto poi a step con il property testing per l'appunto quindi sostanzialmente questa classe ha due proprietà la prima è che il metodo is dangerous deve ritornarmi falso quando la temperatura è più bassa di 1000 gradi e la seconda è che deve ritornarmi vero quando la temperatura è più alta o uguale a 1000 gradi quindi vado proprio a scrivere le due proprietà e lascio che sia in questo caso eris a generarmi le asserzioni quindi eris sostanzialmente gli dico quali sono i range che mi deve testare ovviamente non potevo testare meno infinito 999 quindi ho dovuto utilizzare 0 ad esempio posso poter utilizzare anche i numeri negativi ma per la semplicità dell'esempio ho lasciato questo tipo di test e lui mi genererà tantissimi valori all'interno di quel range e andrà a verificare andrà per ognuno andrà a fare quell'assersione stessa cosa per questo non avevo ovviamente il più infinito e ho dovuto utilizzare 99 1999 però insomma era l'esempio era più per farvi capire il concetto per che insomma testare realmente gli estremi infiniti di questa classe che insomma è talmente semplice che non ha bisogno di farlo ancora come dicevo ci sono diversi tool questo è quello che ho trovato in php ci sono diversi tool per farlo poi ok adesso i tool anche per per questo anche per migliorare nel modo in cui approccio i miei test adesso cosa il nostro share code arriva insomma a capire che i tool non sono mai la risposta finale nonostante questo talk sia stato 90 per cento sui tool ma non sono mai la risposta finale perché l'approccio giusto per fidarmi della mia test della mia suite di test in realtà è al di là di utilizzare tutti questi tool e di controllare le metriche è quello di rilasciare frequentemente deployare frequentemente il mio codice di monitorare il mio codice una volta che in produzione e in questo modo scoprire i bug prima che lo scopra l'utente finale ad esempio prendersi rischi educati quindi non conosco la coppa se non conosco il la suite di test devo prendermi dei rischi per capire al di là di utilizzare i tool come dicevo devo prendermi dei rischi per capire quanto questa test suite questa appunto suite di test è affidabile e rischi educati quindi crearmi delle delle reti di salvataggio diciamo quindi magari cercare anche di come dire creare degli ambienti dove testarmi le cose in produzione e così via insomma qui entrerei a fare un altro talk intero e quindi meglio di no e imparare ovviamente dai fallimenti quindi ogni bug che trovo ogni problema che trovo ogni difficoltà che trovo con la mia suite di test devo continuamente andare a migliorarla e l'unico modo per farlo è andare là fuori uscire dal dal palazzo mettere il codice là fuori vedere se funziona o se non funziona e migliorarlo continuamente il codice e i test perché 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 come diceva max all'inizio perché parliamo sempre di test o insomma perché parliamo spesso di test in questi meetup in tante conferenze perché ho passato gli ultimi 33 minuti e 50 secondi a parlarvi di test di codice che poi va non va neanche in produzione di cose che poi non viene neanche eseguito e che di per sé non risolve nessun problema di business tutto vero domande lecite però test sono forse una delle cose più importanti per il vostro business perché riduce il costo del cambiamento che significa la maggior parte di software su cui lavoriamo andranno evoluti andranno cambiati per soddisfare esigenze di business diverse e continuare a fare soldi sostanzialmente e dobbiamo trovare il modo per scendere per far scendere il costo del cambiamento del nostro del nostro codice quindi i test ci aiutano tantissimo in questo e questo significa aumentare l'agilità quindi se io ho una suite di test che gira prima che il mio codice vada in produzione e questa suite di test è affidabile io posso rilasciare frequentemente nuove nuove modifiche al mio codice imparare se queste funzionalità funzionano o se sono apprezzate dai miei utenti o no se mi fanno fare più soldi o no poi questo è il la domanda finale e tutto è feedback è tutto intorno al feedback loop quindi il feedback loop più stretto è quello dei test poi c'è il loop più largo che è quello dei del monitor ad esempio quello più largo è quello degli utenti e così via e più è stretto il tuo feedback loop e quindi ad esempio con i test o con dei buoni test meglio è per te, per la tua agilità e per ridurre il costo del cambiamento del tuo codice e detto questo grazie niente seguitemi su Twitter questo è un fantastico QR code e se ci sono domande ovviamente potete farle allora mi sa che c'era mi sentite? mi sentite? mi sono riattivato ok mi rintroduco in qualità di moderatore per appunto rinnovare l'invito a fare domande quindi chi vuole fare domande si può auto riattivare il proprio microfono e fare domanda in caso in cui ci sia qualche difficoltà riattivarsi scrivetelo in chat vi riattiviamo noi intanto io ho una domanda me la sono sognata nella chat probabilmente guardavo i trucco perché così evito di scordarmela quando usavi quel tool Eris quel tool lì Eris mi sembra molto interessante però la prima cosa che mi è venuto in mente io scusami sono un po' da rasoio di Occam non era più semplice usare un data provider di PHP unit per testare tutti i valori di ES sì però sì volendo sì diciamo sì funziona sicuramente ha senso però dipende quanto è il tuo range come fai a testare per esempio da 1000 a più infinito a 999.000 devi scrivere un data provider lunghissimo metto un generator nel data provider faccio uno yield sì 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 qualcosa di sì beh fondamentalmente è quello che fa quel tool poi cioè è molto sì è molto pertinente la domanda e quel tool diciamo poi fa anche altre cose un po' più complesse ma in realtà fondamentalmente sì si possono utilizzare anche data provider sì buon suggerimento per il prossimo per la prossima versione del talk comunque questo ok grazie Andrea tu avevi una domanda? certo grazie io prima parlavi della lentezza di inflector riguardo a PHP quindi se diciamo se io ho una suite di test che già per girare con PHP ci mette che ne so 20 minuti se voglio attaccarci anche a inflector ogni volta dalla mia CI hai di quanto rallento la mia pipeline cioè è misurabile per giù della tua esperienza beh considera che dipende un po' da quanto intelligente Infection però in realtà credo che faccia che faccia rigirare i test quasi per ogni mutante o comunque sia ottimizzato ma alla fine quindi immaginati insomma è diventa già la sua suite di test è lenta diventa lenta in maniera esponenziale e c'è un modo per insomma dipende poi anche dalla potenza di fuoco della tua macchina però c'è un modo per usare thread per esempio e lì a quel punto si velocizza un po' si mette un certo puoi settare il numero di thread insomma come come esiste ad esempio para unit c'è anche un qualcosa di analogo per inflector sì non so esattamente se è uguale a para unit non so se veramente fa girare in parallelo però sì immagino che sia quello poi fa girare in parallelo su thread diversi i test esatto e quindi è più veloce è molto simile però è una semplice opzione da aggiungere quindi non è un tool separato però ecco rimane comunque la lentezza se la suite di test originale è lenta non si scappa magari conviene utilizzarlo solo su uno scope molto piccolo su una funzionalità una cartella uno scope più piccolo invece che su tutto il codice chiaro grazie prego non so intanto se Andrea vuoi preparare la nostra ruota della fortuna perché ricordo a tutti che estraiamo una licenza di JetBrains che ci sponsorizza offrendoci appunto ogni incontro una licenza graduta di un anno su uno dei loro prodotti sono prontissimo però mi sarebbe piaciuto sentire qualche altra domanda era giusto per fare un po' para unit pure noi siamo parallelo esatto io intanto voglio aggiungere ho visto che ci sono diciamo abbiamo chiacchierato un po' di iniziare il talk c'erano molti c'erano alcuni che arrivano un po' che sono un po' nuovi sull'argomento test potrebbero spaventarsi da tutta questa moda di formazioni che era sicuramente interessantissima ma mi rendo conto forse anche complessa per chi non avesse ancora affrontato il discorso di test voglio dire questa cosa io ho sempre trovato nei nostri incontri ho sempre visto questi incontri che facciamo come l'opportunità di avere degli spunti voglio dire questi incontri non sono dei workshop non li facciamo per insegnare qualche cosa perché in un'ora sarebbe credo anche abbastanza difficile se non impossibile insegnare a qualcuno un argomento soprattutto uno così complesso però lo spunto secondo me è importantissimo quindi prendere lo spunto per approfondire poi necessariamente ognuno per conto suo insomma o anche magari insieme se qualcuno vuole chiedere sullo Slack o sui nostri canali aiuto quindi per approfondire qualche cosa che prima non si è mai usato io per esempio sul Mutation ne ho già sentito parlare ma non ho ancora avuto occasione ma sicuramente uno dei tool l'ho già installato al volo e l'ho fatto anche girare su un mio progetto che è il CURPHP CURPHP mentre parlavi l'ho installato e l'ho fatto girare anche se prende solo le prime sei i primi sei file ma sicuramente che sarà un parametro per farmi andare di più sì 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 e lo score com'è scusami devo chiedere al volo 0.25 0.22 0.18 0.12 in quel caso lo score va da 0 a 1 se avvicino ad 1 credo sia brutta cosa se è sotto il mezzo accettato abbastanza però poi io vedo insieme alla complessità e mi rendo conto che c'è un paio di script troppo complessi che devo assolutamente troppo complessi di cui non ho fatto la complessi c'è niente da fare mi è venuta in mente un'altra domanda se posso vai 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 dalla tua presentazione Antonello mi hai perso di capire che diciamo Inflector ci aiuta a individuare in maniera molto facile tutti quei corner case che noi non abbiamo messo sotto test giusto? sì corretto oltre a questo nella tua esperienza ti è perso di che ti ha aiutato a capire anche qualcos'altro? cioè nel senso a parte il fatto che non hai messo la classe di test su una classe quella ti dice mille mutanti tutti morti però diciamo a risolvere anche perché ti ha aiutato anche a risolvere problemi di design del software? alle volte se ti è capitato? no design o altro direi meno sì no design no è più diciamo di solito emerge più dai test nel mio caso insomma che dal mutation testing altro sì sulla tipizzazione sui tipi io tendo provo insomma a tipizzare tutto fortemente stavo lavorando su una piccola libreria veramente stupida molto semplice insomma per quello che fa e con infection ha generato tantissime mutazioni e mi faceva capire che dovevo fare alcuni casting che dovevo fare alcune tipizzazioni più forti creare magari di veluja object che insomma mi ha fatto cambiare un po' l'approccio in quel senso quando ho fatto girare il mutation testing quindi diciamo quello che php stand ti avrebbe individuato soltanto qua manca il tipo o non stai rispettando il tipo con inflector stai dicendo ti ha aiutato a capire qua stai utilizzando un oggetto in maniera errata non ho capito scusami allora sì php stand te li trova quei casi o php salm insomma e infection esatto infection come dire mi ha fatto capire che con una piccola con un piccolo cambiamento appunto con un piccolo mutante banalissimo potevo andarmi a perdere quel tipo o a castare sul tipo sbagliato e quel tipo di cose insomma è difficile spiegarlo senza un esempio però è un passetto ulteriore rispetto al php stand per esempio sui questo sui tipi ovviamente e sì mi viene quell'esempio di quella libreria per quel motivo lì insomma ho cercato di tipizzare tutto ma insomma il faction era riuscito a trovarmi dei problemi che non avevo testato in maniera sensata e insomma è stato molto d'aiuto ok grazie ricordo a tutti che vi potete smutare e accendere il video se volete in questa fase di questionanza sarei curioso anche di sapere se voi insomma o gli altri partecipanti abbiano visto su abbastanza progetti o su nessun progetto usare il mutation testing qual è la loro esperienza insomma perché è in piedi già da un po' come idea però non so in php quanto si è utilizzato ma io non l'ho mai usato finora mi ho sentito parlare per la prima volta in php credo due o tre mesi fa mi sembra che sia una cosa che probabilmente non è recentissima però che diciamo è andata alla ribalta in php invece però di recente non da moltissimo io ne ho sentito parlare l'anno scorso quando ancora andavamo alle conferenze di persona al php day del 2019 esatto bei tempi e mi ricordo pure lì fomentatissimo di questa cosa e a suo tempo provai immediatamente appena tornata a casa e difatti da qui mi viene in mente anche un'ulteriore domanda che cioè ovviamente se mi ricordo bene ora c'è anche diciamo un livello tipo php stem dei livelli di quanti mutanti creare una cosa del genere però l'idea che mi ero fatto è che già l'effort per la scrittura dei test era molto elevata l'effort per poter diciamo tenere sotto traccia l'analisi e l'eventuale correzione anche di quest'altro tool lì per lì mi era sembrato davvero molto enerosa però dal tuo talk mi è sembrato di capire che se lo si fa diciamo di feature in feature portando avanti di pezzetto pezzetto e forse il mio approccio è stato ok adesso lo devo sistemare su tutto il progetto è stata abbastanza invadente come cosa che non riuscivo a uscirne quindi da lì poi ho rinunciato ecco eh sì sì sicuramente sì nel senso cioè allora i problemi sono due uno è se lo lasci se lascia infection creare tutti i mutanti che ha su un progetto enorme diventa lento e diventa impossibile fixare tutti i mutanti e quindi come dire non sai da dove iniziare che caspita da dove inizio e soprattutto è difficile poi andare a selezionare quali mutanti vuoi per esempio quella diventa una configurazione particolare oppure escludere alcuni mutanti insomma quindi diventa difficile da configurare in quel caso se invece utilizzato su un progetto piccolo come mi è capitato a me due o tre volte su progetti personali diventa molto prezioso facile da installare e da utilizzare su tutto il progetto su un progetto complesso come dicevi tu è meglio utilizzarlo su magari una piccola feature su del codice sul codice di dominio ad esempio che magari volete testare bene e allora a quel punto si riduce la complessità si riduce il numero di mutanti che magari dovete fixare è più difficile è più facile da gestire quello sicuramente insomma quindi il tuo consiglio è anche di applicarlo maggiormente e solo diciamo dove c'è il core business cioè la parte più critica del dominio esatto sì grazie una domanda sempre collegata a quello che state dicendo adesso ma per me è molto interessante utilizzarla a livello di scope quindi di feature perché appunto per quello che ho capito ti aiuta nella creazione del test perché c'è tipo io lavoro su Magento creare testing su Magento è non lo so una pallocera sotto al piede però mi sto buttando adesso nel VVC e quindi sto cercando di abbiamo iniziato io e mio collega a cercare di fare una specie di VVD su Magento però già ci siamo arresi per per agevolare appunto lo sviluppo dei test ci siamo arresi e siamo passati ora ad un progetto easy fatto con simpoli e così iniziamo a capire il VVD e di conseguenza anche i test quindi per me secondo me a livello di scope è molto utile per definire quali sono i vari casi che magari tu non testi perché c'è tipo proprio oggi è successo abbiamo scritto dei test ok bello funziona mergiamo lanciamo e non avevamo previsto un caso esatto quando giriamo infection a livello di scope più piccolo tu ci consigli comunque di andare a modificare le config in termini di mutanti oppure di lasciare tutto così com'è cioè è troppo pesante a livello di scope o no no se lo scope diciamo è una funzionalità piccola con test che girano in pochi secondi ti sconsiglierei di andare a escludere qualche mutante o a includere solo i mutanti che visiti tu perché magari lì rischiamo comunque cioè se tu per caso vai a disabilitare un mutante di conseguenza hai di nuovo il rischio che non stai pensando tutte le varie esatto esatto come dicevo utilizzandolo ti accorgerai che in alcuni casi ci sono dei mutanti che sono come dice lui harmless quindi non sono pericolosi lui comunque te li fa vedere perché ovviamente è stupido nel senso non capisce quando un mutante non è pericoloso e in quel caso tu puoi escluderlo però ti consiglierei di farlo in quel modo nel senso ho capito che questo mutante che fa da maggiore a maggiore uguale ad esempio nel mio caso specifico non quello del reattore nucleare non mi interessa e quindi lo escludo però andrei andrei più che altro ad esclusione perché includere solo quelli che vuoi far generare diventa boh non saprei quali scegliere diciamo però ecco come dicevi tu se sviluppi una nuova funzionalità e lo fa girare con tutti i suoi mutanti solo su quella nuova funzionalità con test che magari girano in pochi secondi e quindi infection aggira in poco più di pochi secondi secondo me è efficace è comodo non ti intralcia diciamo e ti fa scoprire appunto casi casi estremi insomma edge cases che non vanno in produzione appunto per il tuo caso estremo e appunto perché sto vedendo adesso DDD quel value object come hai fatto ad identificarlo mi puoi fare l'esempio pratico quel value object lo ricordi come hai fatto ad identificarlo da infection cioè che problematica no adesso il caso specifico non me lo ricordo ma non avevo un value object usavo un tipo nativo insomma adesso non ricordo come hai fatto a capire che dovevi passare al value object perché dovrei riprenderti l'esempio se mi ricordo dopo lo faccio ma era se non sbaglio era sostanzialmente che passava un parametro rispetto ad un altro o un argomento rispetto ad un altro che erano due stringhe e quindi però erano due cose diverse concettualmente diverse e quindi ho detto ok credo due value object di modo che in quel modo non mi sbaglio non mi posso sbagliare perché mi dà un errore di tipo poi ok perfetto qualcosa di simile poi sì altre domande? Andrea se non ci sono altre domande io direi di passare all'estrazione se Antonello gentilmente chiudi la tua condivisione così Andrea invece fa partire la sua e diciamo che Andrea funge da il tipo il bambino vendato che è il bustolotto ok perfetto allora qui abbiamo una fantastica fantastica lista di tutti i partecipanti di questa sera abbiamo Massimiliano Antonello Andrea Edoardo Luigi Sara Fabio Alessandro Taddei Francesco Lettera Arnaldo Moreno Matteo Anchi Luca Cricchio c'è qualcuno che manca che ha aggiunto mi sono dimenticato di aggiungere che è entrato non vuol segnalare Alvoro no perfetto allora esegue un bello shuffle un paio di shuffle scusa mi vedo Alessandro Taddei che mi sembra che non sia ah no scusa c'è 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 come l'ho detto vai 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 gira la ruota ok c'è anche hai vinto tu Andrea Andrea ce l'ho già ce l'ho già non è vero ce l'ho già e quindi ripetiamo dice Pierpaolo che non è nella lista Pierpaolo non è nella lista allora aspetta aspetta rifacciamo allora aggiungimi un attimo Pierpaolo no non rimuove Luigi perdonaci Luigi se hai vinto ma aggiungici un attimo al vollo Pierpaolo questa è quella buona shuffle 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 pronti via appena giunto vince Pierpaolo allora Pierpaolo mi puoi contattare grazie grazie a te per aver partecipato puoi contattare me direttamente ti lascio qui la mia mail oppure su Slack comunque se no ti lascio qui la mia email garaccio e così ti mando il codice per riscattare la licenza di JetBrains in un anno grazie mille è stato un piacere allora io voglio ringraziare invece tutti voi che avete partecipato Antonello sicuramente è un talk molto interessante ricco di spunti anche ben spiegato ben articolato grazie 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 anche Andrea che ha fatto il giro ruota ma anche insomma è il nostro cost sono anche dimenticato una persona che poi ha vinto ti rendi conto meglio è meglio così è un po' più attivo e vi ricordo tutti che noi abbiamo una cfp sempre aperta dei nostri talk l'ho linkata all'inizio della chat è su github github.com slash fug roma slash eventi in cui potete proporre qualsiasi cosa che venga in mente come ha fatto Antonello quando mi ha proposto questo talk che poi abbiamo accettato le issue su github si possono aprire anche se uno semplicemente vorrebbe sentir parlare di un determinato argomento poi in modo che chi diciamo nota la issue potrebbe dire ah è figo questo argomento preparo io un talk su quello quindi sentitevi liberi di aprire in qualsiasi genere o anche portare voi stessi dei talk di qualsiasi genere non per forza collegato al linguaggio PHP dovremmo fare quindi un talk a fine di gennaio e riprendere con i nostri ultimi martedì del mese nei mesi normali diciamo non quelli festivi come d'inverno e d'estate a dicembre o agosto perfetto direi che ci possiamo salutare facciamo un saluto al GRUSP tutti quanti e stoppiamo la registrazione ciao GRUSP ciao ciao grazie Antonello ciao grazie a voi grande Anto